Ciao a tutti, mi chiamo Sergio, sono stato raccomandato da un mio carissimo amico di venire qui in questa magnifica clinica. La dottoressa Anili mi ha aiutato in sole due sessioni e posso dire davvero che mi ha aiutato tanto, quindi adesso sto veramente bene, posso muovermi, non ho più dolori e vi consiglio vivamente questa clinica perché davvero vi aiuta al cento per cento. Grazie mille.